Buon lunedì a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube, io sono Stefano Adam e quest'oggi continuiamo con le nostre Slow Pitch Peels. Quest'oggi parliamo della scelta della canna. In questa puntata parleremo di canne, della loro azione, di come devono lavorare con i jig. Vi parlerò delle mie bambine che sono le Adagio di Artico che trovate sul sito www.andatapescare.it a un prezzo imbattibile. E vi racconterò le caratteristiche che una canna da Slow Pitch Peels deve per forza avere. Se avete guardato un pochino in giro sui vari siti, avete visto degli altri video, sapete che non esiste una canna da Slow perfetta per tutte le pesche e per tutti gli artificiali. E adesso vi spiego subito perché. Le canne da Slow sono date dalle aziende con due valori, il Minimum e il Maximum Jig Weight. Cioè l'azienda ci consiglia, e poi vedremo che ci saranno altri fattori che entreranno in gioco, quindi non soltanto dovremo affidarci a quello che ci dice l'azienda, ma anche al nostro buonsenso e alla nostra esperienza, ma quello poi lo vediamo in questa puntata. Vi dicevo, le canne da Slow vengono marchiate con Minimum e Maximum Jig. Allora, che cosa significa? Che a una profondità ideale decisa dall'azienda, queste canne avranno un tipo di azione adatta per animare e per ritornare bene con i nostri jig. Vi faccio un piccolo esempio. Delle mie piccole creature, le Artico Adagio, ci sono quattro azioni differenti. Più o meno cambieranno di poco i grammi, ma per spiegarvi bene come funziona la scelta di una canna, analizzeremo le Adagio. Mi ripeto, quattro azioni. La canna azione 1 è stata da me studiata come un ibrido, un incrocio tra il light jigging e lo slope jigging, utilizzabile anche molto bene con le gomme. È una canna poliedrica, perché io per esempio, e l'avete visto nei vari video, e se non l'avete visti vi metto un link qua sotto in descrizione, ci vado anche a Calamari. Ed è una canna che supporta jig da 40-110 grammi massimo. Ed è una canna che io personalmente ho studiato e ho sviluppato per la pesca in poca acqua. Quindi, o Calamari, quindi con i Calamari andate tranquilli, perché la canna comunque è morbida e andrà a lavorare bene. Il mio intento era studiare una canna che andasse bene anche per gli amici in Adriatico, con poco fondo, che dovessero lavorare con jig molto più leggeri. Una canna che in realtà, se andate a vedere sul mercato, con questo tipo di grammature è molto difficile da trovare. Noi l'abbiamo studiata, l'abbiamo sviluppata per gli amici dell'Adriatico e la utilizziamo anche, io personalmente la utilizzo anche a cabura, la utilizzo nelle pesche un pochino più leggere, le peschine di fino. Ci faccio i Calamari, insomma è una canna che a me piace molto, però capisco che non sia la canna principale da slope jigging per chi magari pesca in tirreno. Ecco, la adagiazione 2, che è quella che mi vedete in mano in questo momento, è una canna che lavora gli artificiali da 80 a 150. Queste sono semplicemente indicazioni, poi vi spiegherò perché. Legature rosse, mentre con le legature verdi sarà l'azione 3, che va ad abbracciare un range dai 100 ai 200 grammi e anche qualcosina di più se vogliamo. Legature azzurre per l'azione 4, una canna un pochino particolare, che serve per andare un pochino più in profondità, una canna un po' più tosta, studiata magari per esigenze un pochino più tropicali, esigenze di corrente molto esagerate, che lavorerà bene con esche da 150 grammi fino ad arrivare anche a 300 grammi, quindi c'è una canna particolarmente tosta, con un carbonio particolarmente rigido. Perché prima vi ho detto che la canna da slow ha queste indicazioni di jig, però sono tutte da ovviamente vedere e provare? Semplicemente perché l'azione dello slow è una giusta via di mezzo tra diametro del trecciato, azione della canna, lavoro del jig, ma due fattori che dobbiamo assolutamente considerare prima di scegliere la canna sono la profondità alla quale vorremmo operare, quindi la profondità alla quale pescheremo e soprattutto la presenza di corrente, perché ovviamente più corrente ci sarà e più pressione ci sarà, quindi più andremo profondi, più la canna dovrà lavorare. Che cosa fa in realtà una canna da slow pitch? Una canna da slow pitch in teoria non fa altro che lavorare l'artificiale, quindi nella maggior parte delle canne che andrete a trovare sul mercato da slow non ci sarà indicata la possibilità di un max fight, per esempio, perché le canne da slow non sono progettate per combattere i pesci, ma sono progettate bensì per animare gli artificiali. Mi spiego meglio, un'azione 2, per esempio, che regge da 80 a 150 grammi, questo tipo di grammatura viene indicato a una profondità ideale sui 50 metri. Ovviamente se andremo a pescare sui 100 metri, sugli 80 metri, sui 90 metri, dovremo calcolare, dovremo andare a sottrarre un pochino di peso al nostro jig power. Perché? Perché la pressione dell'acqua farà sì che il jig per la canna pesi molto di più. Come funziona lo slow? L'abbiamo già spiegato tante volte, anzi, se qualcuno non avesse visto le dirette insieme a Egidio, Mr. Talisman, vi metto qua sotto i link perché sono delle dirette molto interessanti, ma vedrò di essere sintetico. La canna nello slow deve fare questo tipo di lavoro. Deve, anche se non sollecitata manualmente, ma sollecitata semplicemente con un giro di manovella, ritornare, quindi far ritornare il jig. La parte anteriore della canna deve caricarsi e scaricarsi in maniera da far lavorare l'artificiale. In teoria, soprattutto per i neofiti, per chi incomincia questa tecnica di pesca, la canna fa buona parte del lavoro. Quindi, un giro di manovella, la canna carica, poi deve tornare nella posizione iniziale. Ovviamente ci saranno da fare dei calcoli, ma soprattutto saranno calcoli che si fanno con l'esperienza. Chi, e lo vedrete magari anche in qualche video, chi va a pescare a slow pitch non ha mai soltanto una canna. Perché? In certe condizioni opererà con una canna, in certe altre con un'altra ancora. E poi, per i più malati, per i più, diciamo, fissati dello slow, certi altri movimenti, i pitching, quindi tutti i tipi di movimento, li vedremo in un'altra puntata di Slow Pitch Pills. Ovviamente, se andremo a fare dei long fall, ci vorrà una canna ancora differente. Nessuno, giuro nessuno, ha mai detto che lo slow pitch sia una pesca economica. Però è una pesca veramente molto divertente ed è una pesca di concetto. E quindi è una pesca, come piace a me, di quelle che fanno fare la punta al cervello. Quindi, cercando di riassumere il più possibile, cercate, quando deciderete di acquistare una canna da slow, di guardare il jig power e calcolate che, a seconda dell'azienda, questo jig power è calcolato su un certo tipo di profondità. Quindi, cercate di valutare un 30% in più e in meno, a seconda di pressione, quindi di profondità e di corrente. Vi consiglio, se potete, di magari aspettare un attimino di più e prendere una canna di alta qualità, perché il modulo del carbonio, quindi tutto ciò che è all'interno della canna, che noi non vediamo, ma che possiamo testare con mano quando la sbacchettiamo, o comunque la utilizziamo, è molto importante. Quindi, probabilmente, è meglio aspettare qualche mese in più, mettere da parte qualche soldino, comprare una canna un po' più bella, che anima bene l'artificiale, piuttosto che spendere un po' meno e provare e magari rimanere delusi dallo slow, perché una canna che non anima bene l'artificiale è una canna sorda che non pesca. E ce ne sono veramente tante sul mercato, ve lo posso assicurare. Vi aggiungo una piccola curiosità. Il motivo per cui le canne da slow, che sono così sottili e così leggere, sono così costose, è che realizzare una canna di una sezione del genere richiede moltissimo scarto. Quindi, in lavorazione, moltissimi fusti vengono storti e vengono scartati. Quindi c'è una spesa parecchio alta. Soprattutto, poi, nelle canne made in Italy, una grossa componente che fa aumentare parecchio il prezzo è la componente del montaggio, perché, ovviamente, tutto ciò che è fatto in Italia costa di più, e lo sapete benissimo. Mentre, invece, un montaggio in Cina ha un prezzo estremamente inferiore. Però, ragazzi, viva il made in Italy. Io, in questo caso, dico viva Artico e viva il made in Italy, perché, secondo me, secondo il mio modesto parere, secondo comunque il parere di una persona che ha slow pesca veramente tanto, siamo riusciti a realizzare dei piccoli gioielli. Il fatto che la canna da pesca debba essere ben bilanciata con il jig è uno dei fattori principali. Un altro fattore molto importante della canna da slow è la sensibilità. Perché più il modulo è alto, più la canna è fatta bene, più voi vi renderete conto dei movimenti che farà l'artificiale. Io spesso, quando pesco con le mie attrezzature, quindi canne che conosco bene e che hanno un'ottima qualità, mi rendo conto dei movimenti che sta facendo il jig. Perché vi dico questo? Spesso il jig va a lavorare in una condizione che noi chiamiamo condizione morta. Ecco, in quel momento lì il jig non sta pescando, anzi, 90 su 100 sta spaventando i pesci. Con una canna, con un'ottima sensibilità, riuscirete, piano piano, ovviamente con l'esperienza, non si può immaginare di capirlo subito e di impararlo subito, ma con l'esperienza, con qualche pescata, riuscirete a sentire il jig quando sale, se lavora nella maniera giusta o se, per esempio, ruota, che è una cosa che ai pesci dà molto fastidio e spesso li spaventa. Quindi bisogna stare molto attenti anche a quello. Soprattutto poi il jig ci sono dei momenti in cui rimane in posizioni particolari, vuoi per la corrente, vuoi perché la canna non riesce a farlo lavorare bene, e dobbiamo renderci conto, con la sensibilità della canna, che c'è qualcosa che non va, altrimenti continueremo a dare cannate nel vuoto. E vi assicuro che lo slow è una tecnica che quando paga, nei momenti in cui paga, paga tantissimo, ma nei momenti in cui o facciamo un errore, oppure per tanti altri motivi, non centriamo il pesce per la corrente, c'è troppa corrente, c'è troppo scarroccio, non riusciamo a stare bene in pesca, è una pesca, scusatemi il gioco di parole, che può essere veramente demoralizzante. Quindi cerchiamo di pescare al meglio per evitare di demoralizzarci, perché lo slow è una pesca che funziona e funziona ancora parecchio, ma va fatta con tutti i crismi. Ripeto, lo slow pitch è una pesca che funziona molto bene, se l'attrezzatura è quella giusta e se la testa è quella giusta. Ragazzi, bisogna, è una pesca che si fa concentrati. La maggior parte delle canne da slow, come vi dicevo prima, cioè non è destinata al combattimento. Io quello che ho cercato di fare con la serie Adagio di Artico è quello di creare, visto che comunque noi italiani nel carbonio siamo, non voglio dire che siamo i più bravi del mondo, ma siamo veramente molto molto bravi a realizzare le canne da pesca, l'idea che mi era balenata in testa era quella di realizzare una canna che per la prima parte abbondante lavorasse soltanto l'artificiale, poi successivamente avesse una riserva di potenza tale da poter poi anche combattere un pesce. Ci sono dei momenti in cui il pesce non può essere combattuto, perché magari andiamo con una cannina del genere, non possiamo pretendere magari di combattere una grossa cernia, un grosso dentici, magari con un'azione 2, un pesce che passa i 10 kg, o una ricciola arrabbiata sotto barca. Per fare questo, poi lo vedremo in una prossima pillola, il combattimento andrà fatto con la canna in verticale, ma non vi preoccupate perché poi quello lo vedremo in una prossima pillola. Direi che sulle canne abbiamo detto molto, ricapitoliamo, cercate la qualità, fate i vostri conti con la profondità alla quale pescherete e il tipo di artificiali che volete utilizzare, perché ovviamente un foglia morta rispetto a un high pitch, a un long fall, lavoreranno in maniera diversa e soliciteranno in maniera differente la canna da pesca. Quindi direi che vi ho raccontato un po' tutto sulle canne, nel prossimo episodio parleremo di mulinelli, perché anche loro sono molto, molto importanti, vanno a far parte dell'80% della tecnica. Noi ci vediamo settimana prossima, spero che il video vi sia piaciuto, se è così un like qua sotto è molto importante, una condivisione ancora di più, fatemi le vostre domande nei commenti, perché io sapete che cerco di rispondere a tutti. Quindi fatemi sapere se il video vi è piaciuto e ovviamente sappiate che il vostro sostegno per me è molto importante. Non dimenticatevi di andare a vedere, perché tutte le attrezzature di cui parliamo in pillole di Slow Pitch le trovate su www.andateapescare.it, il primo marketplace italiano della pesca dalla barca, quindi siamo anche un po' fieri di raccontarvi questa cosa. Ok? Ci vediamo alla prossima, nel frattempo andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima! Ciao! Grazie a tutti